Niente da fare. Quante ore è che sei qui? Non lo so. Troppe. Spiegati meno l'incidente. No. Dai. Diciamo che è un tentativo di suicidio. Si è gettata da cavallo mentre il cavallo era in corso. 16.000 ore al pronto soccorso. 16.000 ore al pronto soccorso. Viene impazzita, giro su se stessa, impreda alla follia e alle dire. 16.000 ore al pronto soccorso. E' impazzita. Completamente impazzita perché ha fame. 16.000 ore al pronto soccorso. E' una pazza. 17.000 ore al pronto soccorso. Intanto che dalla porta del pronto soccorso entra la gente veramente ferita. 18.000 ore al pronto soccorso. 18.000 ore al pronto soccorso. 19.000 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 ore al pronto soccorso. Grazie a tutti